Sì, mi scuso, ho chiesto l'ultimo momento di parlare proprio per riallacciarmi a quello che ha detto Salvi sul discorso dei satelliti. Io sono un professore universitario, mi occupo di rischio idrogeologico, di frane, di alluvioni, di dissesti. Negli ultimi mesi, ce ne abbiamo avuti tanti. Negli ultimi mesi sono stato a vedere località frane che hanno distrutto attività produttive in località Lafrana, in località Madurerà. Un supermercato costruito in un fiume a Montascaglioso, le mura di Volterra che sono crollate perché erano lì dal Medioevo ma solo in anni recenti c'è stato messo un tubo dell'acquedotto dietro, un altro muro di Volterra crollato perché sotto c'è stato fatto un parcheggio di quattro piani e sopra degli scavi archeologici non drenati che erano diventate piscine. Continuiamo a dare la colpa a cambiamenti climatici, roba che ha resistito alla piccola età glaciale, ha resistito a piogge e condizioni climatiche ben peggiori di quelle attuali. Il problema del rischio idrogeologico è il consumo di suolo, il consumo di suolo senza senso, senza pianificazione o peggio quando è pianificato in malo modo. Abbiamo delle leggi buone nel nostro Paese, la perimetrazione dell'aria a rischio l'abbiamo solo noi ma ancora oggi la perimetrazione dell'aria a rischio di frana e di alluvione è frutto di negoziazione politica, cioè non c'è una perimetrazione fatta dagli scienziati, fatta dai tecnici. Viene modificata su negoziazione politica fra autorità di Bacino e Comuni. Finché non si spezza questo legame si va da poche parti sul rischio idrogeologico. Ma volevo intervenire proprio sui satelliti. Queste indagini qui, che sono state presentate oggi, eccellenti, la sicurezza del territorio per i terremoti di cui si occupa gli NGV, per le frane e le alluvioni di cui ci occupiamo anche noi insieme a tanti altri, si fa con i satelliti oggi. È assurdo che in Italia abbiamo i migliori satelliti del mondo per l'osservazione del territorio e per le misure degli spostamenti, per le misure anche del consumo di suolo e che gli enti di ricerca pubbliche, le università pubbliche, il sistema di agenzie pubbliche non li possano utilizzare. È una situazione a cui bisognerebbe porre rimedio. Grazie per l'attenzione. Ok. L'ho detto e mi avrebbe alzato la palla ulteriormente. È pericolosissima questa cosa. Anche perché come rappresentante GMS, come ex vice capo dipartimento della protezione civile, cosa di cui sono profondamente orgoglioso, abbiamo sostenuto pienamente sia la parte accademica che è la parte di sviluppo dei prodotti per operativi e operativi, proprio facendo quel passo avanti, fare al Paese quel passo avanti che ci è riconosciuto a livello internazionale. Ed oggi quei prodotti sono operativi nel sistema di allertamento nazionale. Non sono qualche cosa messo in una teca. Sono operativi tutti i giorni. Se andate su Ispra Ambiente, e quindi la polemica la chiudo qua, se andate su Ispra Ambiente, attraverso il sito web trovate un articolo che dopo tanto tempo mi sono messo a riscrivere, proprio che riguarda l'utilizzazione dei satelliti che certamente non evita le alluvioni. Le alluvioni si evitano mettendo le case al posto giusto, le cose al posto giusto e compagnie varie. Forse l'Italia ha sviluppato nell'ambito di protezione civile assieme all'aeronautica militare uno dei prodotti di utilizzazione nel miglioramento delle previsioni a 24 ore migliori distribuiti da OMSAT su tutto il sistema europeo, ma ora distribuiti dalla NASA anche a livello internazionale. Pochi lo sanno. Come pochi sanno che c'è un radar in banda X per il monitoraggio delle ceneri vulcaniche che è in questo momento in Islanda, perché è considerato uno degli elementi di monitoraggio migliori che esistono a livello mondiale, c'è stato richiesto in prestito. Ma poi questo Paese non si riesce a far emergere le eccellenze, vengono subito scacciate e quindi il nostro ruolo è quello di trovare questi scenari in cui tutti possono parlare e rappresentarsi anche rispetto all'Europa. Non so se dare subito la parola, visto si è parlato di rischio idrogeologico, però poi a Fabio Trezzini. Prego.